Il corso Dare e ricevere feedback, promuovere e migliorare il cambiamento offre ai partecipanti l'opportunità di sviluppare una consapevolezza profonda sul valore del feedback come strumento di crescita personale e organizzativa. I punti di forza includono il miglioramento delle relazioni interpersonali, sia tra capo e collaboratori che tra colleghi, favorendo uno spirito di squadra più solido. Inoltre, promuove la comunicazione efficace, rafforzando la fiducia reciproca e il supporto tra i membri del team. Il corso si concentra anche sull'importanza del feedback come motore di miglioramento continuo, alimentando la motivazione e contribuendo al potenziamento delle performance aziendali. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.